Salve a tutti! Oggi nella mia meditazione, nella pausa del lavoro, mi è venuto da riflettere che noi siamo come l'albero. Ognuno di noi è un albero. L'albero ha bisogno assolutamente dell'acqua. Se l'albero non riceve l'acqua, è destinato a morire. Noi siamo degli alberi, abbiamo proprio bisogno dell'acqua. Allora, la meditazione che ho fatta oggi in realtà è stata suscitata dal Salmo 1, dove viene detto Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso arrivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e la cui fronda non appassisce. Non così gli empi, anzi sono come pulla che il vento porta via. Perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio, né i peccatori, né la raunanza dei giusti. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi mina alla rovina. Allora, si possono rifiutare le cose di Dio. Rifiutando le cose di Dio, rifiutando Dio, è come un albero che rifiuta l'acqua. Se un uomo rifiuta Dio, è come se un albero rifiuta l'acqua. Chi rifiuta Dio è come se un albero rifiuta l'acqua. È destinato a morire. Direi che queste cose non sono tanto conosciute. Ma Dio che vuole la salvezza per gli uomini, le fa conoscere. Rileggo questo Salmo che direi che è abbastanza interessante. Qui dice, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi. Sicuramente su questa terra ci sono degli empi che danno anche dei consigli. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei pecatori, né si siede sul banco degli schernitori. Ma è beato l'uomo che il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Si è beati a meditare la legge di Dio. Quello che Dio ha dato proprio come legge. Se Dio ha parlato, quello che lui dice è legge. Egli sarà come un albero piantato presso i rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione. E la cui fronda non appassisce e tutto quello che fa prospererà. Direi che qui Dio fa comprendere quale è la via della vita. Quello di accettare, di meditare, di ascoltare quello che lui ha fatto sapere. Quello che è scritto. E anche quello che lui fa sapere. Di persona. C'è la via della vita. E c'è la via della morte. Se si riceve la parola di Dio, si riceve vita e si porterà frutto. C'è un passo della Bibbia che dice ditolo che il giusto avrà del bene. Qui sempre nel Salmo dice non così gli empi, anzi sono come pulla che il vento porta via. Perciò gli empi non reggeranno. reggeranno. Qui Dio fa sapere che gli empi non reggeranno. Ma saranno portati via come la pulla. Gli empi non reggeranno. Perché Dio è giusto. Dio è giusto. E l'unica cosa che l'uomo può fare è inchinarsi dinanzi a Dio e ascoltarlo. E nell'ascoltarlo uno è obbligato anche a riconoscersi empio. Però c'è salvezza presso Dio. Perciò gli empi non reggeranno dinanzi al giudizio né i peccatori né la raunanza dei giusti. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti ma la via degli empi mena alla rovina. Si conoscono queste cose? Si conosce il fatto che la via degli empi mena alla rovina? Si comprendono queste cose? Si intendono queste cose? Dio ha parlato, ha fatto sapere come stanno le cose. E qui dice che la via degli empi mena alla rovina. voglio leggere un'altra traduzione un pochino più moderna dove dice poiché il Signore conosce la via dei giusti. Ma la via degli empi conduce alla rovina. Allora se Dio ci fa sapere che la via degli empi mena alla rovina direi che è buono porci mente. e buono porci mente. Buono porci attenzione. Allora dice ritorno all'altra versione poiché l'Eterno conosce la via dei giusti. L'Eterno conosce la via dei giusti ma la via degli empi mena alla rovina. Allora ci sono due vie. C'è la via del giusto e c'è la via dell'empio. ci sono due vie. L'uomo forse ha bisogno di imparare di comprendere che ci sono due vie. Una quella del giusto e l'altra quella dell'empio. è quella di ascoltare Dio e l'altra quella di rifiutare Dio. Allora Dio vede perfettamente in che stato si trova l'uomo. Dio conosce in che situazione si trova l'uomo. Dio conosce Dio sa che l'uomo slegato da lui che non segue la sua via è destinato alla rovina. C'è la rovina per tutti quelli che rifiutano la parola di Dio. si può dire tranquillamente ciò c'è la rovina per tutti quelli che rifiutano la parola di Dio. E' buono annunciare ciò e' buono far conoscere ciò perché è quello che Dio ha fatto conoscere che fa conoscere che dice poiché l'Eterno conosce la via dei giusti ma la via degli empi mena alla rovina. Ieri sera è stato meditato un passo che dice ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro sarà tranquillo senza paura di alcun male. e Dio parla Dio parla Dio Dio fa sentire la sua voce perché qui dice la sapienza grida per le vie fa udire la sua voce per le piazze nei crocicchi affollati e la chiama all'ingresso delle porte in città pronuncia i suoi discorsi e c'è una parola diretta agli empi gli viene detto ciò fino a quando o scempi amerete la scempiaggine fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza e poi dice volgetevi a udire la mia riprensione Dio fa sentire la sua voce Dio chiama Dio fa sentire la sua voce dice volgetevi giratevi verso di me volgetevi giratevi verso di me Dio chiama dice volgetevi ascoltate volgetevi a udire la mia riprensione ecco io farò sgorgare su voi lo spirito mio vi farò conoscere le mie parole allora Dio chiama Dio parla Dio chiama Dio parla Dio sa molto bene quando chiama e gli uomini non danno ascolto e Dio dice volgetevi a udire la mia riprensione vi farò conoscere le mie parole vi aiuterò a capire le mie parole è come se Dio dicesse ciò vi farò conoscere cioè comprenderete le mie parole le intenderete le comprenderete ci sarà la comprensione per voi volgetevi a udire ascoltate allora Dio chiama molte persone sanno che Dio chiama ma chi chiama chiama poche persone molte persone dicono ma c'è la chiamata di Dio sì c'è la chiamata di Dio esiste la chiamata di Dio Dio chiama ma Dio chiama tutti perché Dio vuole che tutti siano salvati e conoscano la verità questa è la volontà di Dio e direi che questi passi che ho letto sono abbastanza forti perché Dio fa comprendere fa capire che c'è la rovina a rifiutare la sua parola Dio annuncia che l'uomo che rifiuta di ascoltare la sua parola Dio annuncia che quell'uomo è già sulla via della rovina e non lo sa ma Dio lo fa sapere perché qui Dio dice ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare d'ascoltare allora quando Dio chiama lui comprende vede se è ascoltato oppure no Dio è ben consapevole di quando chiama e Dio ci fa comprendere che è grave non dare ascolto alla sua voce è grave perché qui dice ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato d'ascoltare allora Dio chiama Dio chiama per davvero e Dio vede che cosa c'è nel nostro pensiero nel nostro cuore vede se c'è un rifiuto di ascoltare lui e Dio parla a queste persone che rifiutano di ascoltare lui e poi gli annuncia delle cose ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato ad ascoltare quando ho steso la mano nessuno vi ha badato anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non avete voluto sapere e poi Dio annuncia cosa accadrà a queste persone e dice anche io anche io mi riderò delle vostre sventure come voi avete rifiutato di ascoltare la mia parola avete riso quando io parlavo vi siete divertiti quando io parlavo mi avete preso in giro quando io parlavo avete rifiutato di ascoltarmi avete rifiutato la mia parola vi siete fatto beffe di me vi siete incamminati in una via che è la via della rovina questo è quello che fa sapere Dio e dice anche io cioè come voi avete fatto in pratica anche io mi riderò delle vostre sventure mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia qui è Dio che annuncia ciò che accadrà a quelli che hanno rifiutato di ascoltare lui è Dio che lo annuncia ed è scritto certo Dio è molto buono è vero Dio è molto buono però Dio può benissimo dire ma se tu credi che io sia buono perché non accetti quello che io ti dico se tu credi che io sono buono accetti di essere con me e tu vedrai su di te che io sono buono però è buono che si sappia che Dio è anche perfettamente giusto c'è un passo che dice è impossibile beffarsi di Dio è impossibile beffarsi di Dio e qui queste persone che Dio ha chiamato e che hanno rifiutato si sono beffati delle parole di Dio di Dio bene accadrà la rovina annunciata anch'io mi riderò delle vostre sventure mi farò beffe e quando lo spavento vi piomberà addosso quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta quando la sventura vi investirà come un oragano si viene investiti dalla sventura e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia allora qui poi dopo Dio usa delle parole ancora più forti e dice allora mi chiameranno ma Dio cosa dice ma io non risponderò mi cercheranno con premura ma Dio rifiuta di farsi trovare ma non mi troveranno bene Dio sa molto bene sa molto bene come stanno le cose direi che è grave rifiutare la parola di Dio è molto molto grave queste cose non si conoscono ma Dio vuole che siano conosciute perché Dio stesso qui va a parla e dice allora mi chiameranno ma io non risponderò mi cercheranno con premura ma non mi troveranno Dio non si fa trovare da queste persone che lo hanno rifiutato in precedenza Dio rifiuta di essere trovato da quelle persone che lo hanno rifiutato Dio li giudica in questa maniera vogliamo noi giudicare Dio perché Dio giudica in questa maniera vogliamo essere noi giudici di Dio vogliamo noi correggere a Dio qui Dio parla in questa maniera allora mi chiameranno ma io non risponderò credo che chi ha il diritto di parlare di Dio sia proprio Dio chi ha il diritto di dire come Dio si comporta è proprio Dio Dio ha tutti i diritti di dire come lui agirà quello che lui farà e qui lo dice lo dichiara allora mi chiameranno ma io non ne risponderò mi cercheranno con premura ma non mi troveranno e qui dice il perché non lo troveranno dà la spiegazione perché Dio si rifiuta di farsi trovare e lo spiega poiché hanno odiato la scienza e non hanno scelto il timore dell'eterno e non hanno voluto sapere dei miei consigli e hanno disdegnato ogni mia riprensione si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli poiché il pervertimento degli scempi li uccide e lo sviarsi degli stolti li fa perire ma ora c'è un bel finale che dice così ma chi m'ascolta qui dice così ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro qui Dio dice così Dio dichiara così ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro Dio dichiara così Dio fa queste dichiarazioni ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro sarà tranquillo senza paura d'alcun male allora Dio ci tiene agli uomini li ha creati Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della verità però se gli uomini rifiutano la salvezza di Dio disprezzano la salvezza di Dio avranno quello che loro hanno scelto e dopo verrà il momento in cui queste persone cercheranno Dio e Dio ha detto che rifiuterà di farsi trovare è tragico per quell'uomo Gesù a un certo momento disse anche una frase e la disse a Giuda gli disse che sarebbe stato molto meglio se non fosse neanche mai nato lo voglio leggere questo passo che si trova nell'Evangelo di Marco capitolo 14 versetto 21 dove dice certo il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui Gesù parlava di sé e poi dice ma guai ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito ben sarebbe per quell'uomo di non essere nato sarebbe stato molto meglio se non fosse nato e qui parla di Giuda allora direi che è buono fare le giuste riflessioni nei confronti di Dio perché se Dio chiama chiama per benedire per fare del bene quando Dio chiama chiama per fare del bene perché lui dice ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro e poi voglio sottolineare anche il fatto che la chiamata di Dio è Dio che chiama perciò se Dio chiama Dio chiama a sé ad avere a che fare con lui a camminare con lui la chiamata di Dio è la chiamata a essere con lui a camminare con lui perché cosa dice dice ma chi mi ascolta perciò la chiamata è quella di ascoltare Dio la chiamata è quella di ascoltare lui perché dice ma chi mi ascolta se ne sarà al sicuro non è una chiamata ad ascoltare altri uomini certo può essere anche così però la chiamata principale è perché lui dice ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro sarà tranquillo senza paura di alcun male chi ascolta lui allora Dio ci ha creati a sua immagine e questo per me è una garanzia che siamo amati ma questo non toglie il fatto che lui è un giudice perfetto ora mi viene da pensare anche il fatto che talvolta se c'è uno che è giudice anche se dovesse trovare a giudicare delle persone che conosce per essere giusto deve condannare anche le persone che conosce si è chiamati ad essere giusti e Dio è perfettamente giusto e il fatto di rifiutare lui è come se uno rifiuta proprio la vita c'è un passo che dice tutti quelli che mi odiano amano la morte lo voglio leggere questo passo che si trova nel libro dei proverbi capitolo 8 versetto 36 dice così ma chi pecca contro di me fa torto all'anima sua tutti quelli che modiano amano la morte direi che queste parole sono poco conosciute ma è buono farle conoscere è buono farle conoscere perché è avendo timor di Dio è ricevendo la parola di Dio che si possono evitare molti guai molti problemi perché la sapienza il principio della sapienza è il timore di Dio e a un certo momento Dio stesso dice hanno rigettato la parola dell'eterno che sapienza possono essi avere se uno non ha timore di Dio non ha sapienza è stolto vedrà la rovina sopra di sé quello che Dio ha annunciato qui dice ma chi pecca contro di me fa torto all'anima sua e se uno fa torto all'anima sua è intelligente che intelligenza ha che sapienza ha quindi dice chi pecca contro di me fa torto all'anima sua tutti quelli che modiano amano la morte queste cose sono scritte nella Bibbia vorrei fare una domanda a te ascoltatore tu ami quello che è scritto nella Bibbia ami queste parole o le odi tu odi le parole di Dio o le ami rifletti rifletti tu le parole di Dio le odi o le ami se le odi confessalo subito come peccato davanti a Dio e Dio è perdonatore e accoglie chi si ravvede se uno odia le parole di Dio è buono che lo riconosca come peccato se uno le ama vuol dire che ascolterà queste parole vuol dire che leggerà la Bibbia qui dice chi pecca contro di me fa torto all'anima sua tutti quelli che modiano amano la morte mi viene in mente in questo momento che quando Gesù era presente e parlava i religiosi di quel tempo odiavano Gesù non lo amavano le persone quando Gesù parlava era odiato Giuda l'ha venduto e poi Gesù ha fatto capire anche che era meglio che se non fosse mai nato allora Dio sa benissimo chi lo ama o chi lo odia chi odia Dio chi odia le parole di Dio perché molte persone dicono ma io io credo io credo ma se uno non ha neanche mai sentito le parole di Dio non le ha volute sentire non è un credere che lui esiste ma occorre credere a quello che lui ha anche detto che dice i discepoli di Gesù amavano i discorsi di Gesù accettavano i discorsi di Gesù tornando al al proverbio al capitolo 1 dove dice volgetevi a udire vuol dire che Dio parla fa i suoi discorsi allora qui dice la sapienza grida per le vie e la sapienza chi è che ce l'ha chi è che è veramente sapiente riflettiamo ma chi è veramente sapiente chi è che conosce veramente le cose c'è chi conosce più cose di Dio se tu conosci più cose di Dio parla insegna allora c'è chi conosce più cose di Dio la sapienza grida per le vie Dio è veramente sapiente oppure no conosce veramente le cose oppure no e se le conosce non pronuncia forse i suoi discorsi quando Gesù era sulla terra non pronunciava forse i suoi discorsi e chi è che accettava di ascoltare i suoi discorsi i discepoli accettarono di ascoltare i discorsi di Gesù i religiosi che gli piaceva avere potere con la religione la religione li faceva avere del potere avevano del potere con la religione ma non ascoltavano i discorsi di Gesù non gradivano i discorsi di Gesù odiavano i discorsi di Gesù c'è un passo che è scritto direi prima che Dio ha mandato il diluvio dove a un certo momento Dio dice il mio spirito non contenderà più vuol dire che Dio pronunciava i suoi discorsi ma gli uomini rifiutavano i discorsi di Dio come ai tempi di Gesù Gesù pronunciava i suoi discorsi ma i religiosi odiavano i discorsi di Gesù e non non soltanto i religiosi anche quelli che avevano un certo potere come Erode e avevano pure di essere spodestato allora Dio pronuncia i suoi discorsi Dio pronuncia i suoi discorsi se Dio è sapiente e lo è per davvero vuoi che Dio non ha voglia di pronunciare i suoi discorsi qui dice la sapienza grida per le vie chi è allora allora mi viene da dire che c'è quel passo che dice che è lo stolto quello che ha detto che Dio non c'è e se uno è stolto vuol dire che farà la fine della stoltezza la stoltezza porta a fare una brutta fine la stoltezza porta a far una brutta fine la sapienza grida per le vie fa udire la sua voce allora se Dio ha della sapienza non se la tiene per sé ma parla occorre riflettere su questo ma se Dio è veramente sapiente si tiene per sé la sua sapienza Dio non pronuncia i suoi discorsi domanda ma chi sono quelli che accettano di ascoltare i discorsi di Dio ci sono di quelli che accettano di ascoltare i discorsi di Dio ce ne sono qui dice la sapienza grida per le vie fa udire la sua voce per le piazze allora Dio è veramente sapiente sì o no riflettiamoci su Dio conosce veramente le cose sì o no è veramente sapiente sì o no e se Dio è sapiente se Dio conosce veramente le cose non vuole forse veramente comunicarle a quelli che ascoltano se Dio è sapiente non chiamerà forse degli uomini affinché degli uomini accettino di ascoltarlo che cosa faceva Gesù non pronunciava forse i suoi discorsi bene se Dio è sapiente lui pronuncia i suoi discorsi possiamo dirlo ad alta voce se Dio è sapiente e lo è Dio pronuncia i suoi discorsi ed è lo stolto quello che si priva di ascoltare i discorsi di Dio perché i discorsi di Dio fanno vivere i discorsi di Dio fanno vivere mi ripeto i discorsi di Dio fanno vivere direi che è buono disporsi ad ascoltare i discorsi di Dio i discorsi di Dio ci sono la Bibbia fa vedere che i discorsi di Dio ci sono voglio ripetere Dio a un certo momento quando ha detto il mio spirito non contenderà più è perché i suoi discorsi non venivano ascoltati non venivano ricevuti e dopo c'è stata la rovina c'è stato il diluvio quando Gesù pronunciava i suoi discorsi e la nazione di Israele ha rifiutato i discorsi di Gesù c'è stata la rovina allora se Dio esiste non possiamo che dire che Dio è realmente sapiente e se Dio esiste ed è sapiente lui pronuncia i suoi discorsi cosa disse Gesù le mie pecore ascoltano la mia voce allora Dio pronuncia i suoi discorsi chi sono quelli che ne sono partecipi bene se uno accetta di ascoltare i discorsi di Dio Dio gli darà del suo spirito e gli farà comprendere conoscere le sue parole non è non è forse una buona cosa quella di poter essere partecipi dei discorsi di Dio Dio ci fa comprendere che si è beati ad ascoltare i suoi discorsi si è beati ad ascoltare i discorsi di Dio e la Bibbia fa proprio vedere che Dio pronuncia i suoi discorsi qui è detto in maniera abbastanza chiara la sapienza cioè colui che sa veramente la sapienza la sapienza la sapienza sa conosce conosce tutto la sapienza conosce sa la sapienza grida per le vie fa udire la sua voce per le piazze nei crocicchi affollati e la chiama la sapienza conosce sa e chiama chiama ad ascoltare la sua parola e chiama quelli che in realtà stanno già camminando nella stoltezza cioè nella via della rovina chiama perché vuole che vi sia salvezza e dice volgetevi a udire volgetevi a udire allora volevo volevo accingermi già verso la chiusura ribadendo il fatto che in verità Dio per davvero pronuncia i suoi discorsi è buono è buono consapevoli del fatto che Dio pronuncia i suoi discorsi è buono essere consapevoli di questo che Dio fa conoscere i suoi discorsi che Dio pronuncia le sue parole parla e che si è stolti a rifiutare si è grandemente stolti e da quello che Dio ha detto succederanno delle cose pesantissime a quelli che rifiutano di ascoltare i suoi discorsi e le sue parole e Dio lo ha anche dimostrato perché ai tempi di Noè venivano rifiutati i suoi discorsi e c'è stato il deluvio ma non tutti però hanno rifiutato i suoi discorsi Noè accettò i discorsi di Dio e se ne stette tranquillo senza paura di alcun male se ne pote stare tranquillo se uno accetta per davvero di ascoltare i discorsi di Dio cioè quello che Dio dice se ne starà tranquillo come Noè e Dio è quello dichiarato è dichiarato e dice ma chi mi ascolta Noè ascoltò i discepoli di Gesù ascoltarlo ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro se uno sa che sta ascoltando i discorsi di Dio automaticamente è al sicuro perché sa che sta ascoltando le parole di Dio allora da questi discorsi fatti si è compreso che Dio pronuncia i suoi discorsi chiama parla e vede quelli che accettano quelli che accettano di ascoltarlo se ne staranno al sicuro chi lo ha rifiutato come Dio ha detto gli accadrà che magari cercherà Dio e non lo troverà lo cercherà e non lo troverà lo cercherà con questo passo che è scritto nel Valgero di Giovanni capitolo 7 versetto 32 lui l'ha detto i farisei udirono la moltitudine mormorare queste cose di lui e i capi sacerdoti e i farisei mandarono delle guardie a pigliarlo perciò Gesù disse loro io sono ancora con voi per poco tempo poi me ne vo a colui che mi ha mandato voi mi cercherete e non mi troverete e dove io sarò voi non potete venire Gesù disse queste parole a chi è che le disse le disse a quelle persone che avevano rifiutato di ascoltare i suoi discorsi Gesù disse queste parole a quelle persone che lo avevano rifiutato e gli disse voi mi cercherete e non mi troverete invece Gesù e i suoi discepoli disse io sarò con voi non vi lascio orfani le mie pecore ascoltano la mia voce le mie pecore ascoltano la mia voce le mie parole sono spirito e vita le mie pecore ascoltano la mia voce e i discepoli di Gesù si rallegrarono nell'ascoltare la voce di Gesù e la vita è proprio quella e la vita è ascoltare la voce di Dio la vita eterna è ascoltare Dio conoscere Dio la vita è la presenza di Dio Gesù disse io sono la vita perciò ora concludevo col dire che è buono veramente sentire sentire i discorsi di Dio godere della parola di Dio si è bello godere della parola di Dio perché la parola di Dio mostra il sentiero della vita in Cristo Gesù amén prendi la mia vita prendi la signor e la tua fiama bruci nel mio cuore tutto l'essere mio vivri per te sì mio signore e divino re l'essere l'essere lui dell'essere l'essere di Dio l'essere Grazie a tutti.